ciao e benvenuti in un nuovo video allora benvenuti in uno dei video che ho visto preferite di più del canale oltretutto oggi non solamente parliamo di mascara ma parliamo di mascara novità low cost che ci piace ancora di più allora abbiamo il mascara the universal volume di astra makeup poi abbiamo ovviamente catrice pur false lash essence con lash without limits e due di revolution perché revolution vuole sempre st'affare abbiamo revolution pro hick flyer e di revolution classico wispify false lash ma a questo punto io direi di iniziare perché sapete che come sempre c'è anche la clip con tutta l'applicazione e come si presenta perché se le facessi vedere adesso super truccata non si vedrebbe ovviamente niente e partiamo subito allora il primo di cui parliamo è questo astra the universal volume mascara waterproof dice di essere extra black easy to remove allora la quantità è un 13 ml ed il prezzo è di 6 euro e 50 vi mostro l'applicatore che è questo qui e ora la clip dove la mostro astra the universal volume waterproof e poi 3 4 e poi 3 4 allora avete visto questa mascara mi è piaciuto è bello nero si vede bene la differenza dal già la prima passata dona volume ma anche lunghezza stando a stratificare le prime dalla base per dare volume poi solo sulla parte finale per dare un po di lunghezza mi è piaciuto non si spezzetta dura tutto il giorno parliamo solo un attimo della parte rimozione allora è un mascara waterproof quindi ci vogliamo che sia waterproof e questo è bello resistente dice easy to remove sì ma con un olio un burro un bifasico qualcosa a base oleosa perché solo un acqua micellare uno struccante classico non ce la fa quindi è un waterproof e quindi ci vuole un qualcosa di oleoso che tolga il waterproof ma ci sta benissimo per il resto un super super mascara ma noi andiamo avanti e andiamo avanti con revolution pro quindi la versione pro di revolution egg flyer questo qui eccolo che è un 10,2 ml per 9 euro e 99 andiamo a vedere l'applicatore che è così allora 1,2,3 keep mascara egg flyer revolution pro eccolo qui che però lo rende comodo da spingere in su non so se è solo il mio o se è fatto così ma è comodo 2,3,4 3,4 dunque anche questa mascara devo dire che mi è piaciuto mi è piaciuto notevolmente mantiene le promesse, fa quello che dice oltretutto è bello nero e dovrebbe essere un volume mascara dice semplicemente mascara quindi è un mascara effettivamente è bello nero si vede l'applicazione, si vede il prima e dopo ed è da lunghezza, da volume con questo applicatore si può stratificare come sempre il volume sulla base e poi andiamo a tirare e solo sulle punte per dare anche un po' di lunghezza ed si rimuove anche facilmente con un qualunque tipo di struccante questo mascara, low cost di Revolution Pro per me mantiene le promesse ed è un buon mascara e andiamo avanti andiamo avanti con Essence che io mi chiedo ma Essence io inizio sempre a fare più fatica a trovarlo ma davvero fatica ed è negli store fisici tipo Tigota o altri non ci sono più i mascara se non quelli della linea permanente le novità non ci sono mai e anche online è subito sold out e non tornano quindi faccio davvero fatica a trovarli quando trovo qualcosa normalmente quindi se ogni tanto qualche novità mi manca e mi manca allora questo è Lush Without Limits estrema lunghezza e volume mascara ed è la quantità è un 13 ml viene 4,19 euro questo è il colore 01 ultra black ho visto che c'è anche in marrone allora applicatore conico ho quella punta ma vediamo come si come cosa cosa combina uno due clip ok essenza slash without limits ok 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 allora avete visto è un mascara che è nero ultra black effettivamente il colore è bello nero oltretutto fa volume si la formula abbastanza cremosa da corpo alle ciglia si vede il prima e dopo dopo prima passata per la lunghezza si da lunghezza ma non fa il miracolo che mi aspettavo un mascara promosso per la lunghezza da lunghezza si visto però non quella cosa effetto ciglia finta se no rischia di diventare davvero troppo pesante si strucca bene non si spezzetta non crea grumi buon mascara si questi mascara lo costa e mi stanno piacendo ma allo stesso tempo non fa i miracoli promessi però 4,19 euro assolutamente e noi continuiamo ad andare avanti e andiamo avanti con catrice pur false lash mascara un mescala con collagene vegetale la quantità è un 10 ml e viene 5 euro e 29 questo è l'applicatore leggermente curvo ma come si comporta 1,2,clip mascara pur false lash di catrice 3.4 4 allora io devo dire che questo mascara ho apprezzato particolarmente una cosa è super super stratificabile quindi il colore nero una passata per un effetto nero che comunque da giorno tranquillamente si può stare che si vede da un attimo definizione all'occhio più passate e rendono più nero, più volume più lunghezza non fa miracoli ma è molto adatto a tutti perché si può stratificare tantissimo io come sto come gesticola io nei video è tutto un programma però è un mascara che non crea grumi non si spezzetta, si strucca facilmente è stratificabile ovviamente non all'infinito sì, non il mio preferito ma comunque sia un buon mascara molto molto valido ed ora veniamo all'ultimo mascara di questo periodo ed abbiamo Revolution, linea classica Wispify False Lush Mascara Rosa Bubblegum 8,8 ml 9,90 euro applicatore cicciotto di quelli che piace a me ma vediamo se anche la resa è quello che mantiene allora 1, 2, 3 e per l'ultima volta Clip Revolution Wispify Faslash 3, 4 allora questi mascara low cost mi hanno davvero entusiasmato anche questo ottimo ottimo mascara mi piace mi piace come è fatta questo applicatore particolare acchiappa tutte le ciglia perché è super sottile la formula è cremosa dà volume dà lunghezza stratificabile non all'infinito ma si vede davvero anche la lunghezza si vede durante il giorno le stratifichiamo più volte due o tre volte tranquillamente non crea grumi non si spezzetta si strucca facilmente non si scioglie mascara che davvero mi stanno davvero entusiasmando allora a questo punto fatemi sapere voi qual è il preferito però davvero ho fatto video di mascara costosi che non mi sono piaciuti e mascara low cost come in questo caso che mi sono piaciuti chi più chi meno tutti quindi non sempre il prezzo o il marchio fa la differenza e si è visto assolutamente io continuerò con questo con le video novità di mascara sicuramente con altre mascara ma vanno che usciranno sicuramente ma con quelli low cost cerco di stare molto attenta e non so se ci sono altri marchi io conosco questi fatemi sapere se è facile reperire anche altri marchi perché se sono difficili da reperire non sono più alla portata di tutti e con questo spero di stata utile e come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.